E ora con la rimessa per l'ultima azione di Casale, come diceva Stefano Benzoni, fondamentale non prendere la tripla, anche perché Casale ha tanti giocatori in grado di scagliarla. La rimessa la fa Ferrero, c'è pronto sia Martinoni che Pieris per un blocco su Malaventura, Ferrero un po' in difficoltà, Ware, 7 secondi adesso, Ware si alza, prende la tripla e la realizza, incredibile, 3 secondi, c'è il time out con due giocatori addosso, Casper Ware ha trovato una tripla pazzesca, non ci credo. Giù il cappello veramente davanti a Casper Ware, incredibile tripla, 3 secondi e 10 centesimi, Roderick, Roderick può andare dentro, Roderick appoggia, sbaglia, sbaglia, un appoggio incredibile.